E c'è una piccola finestra dedicata ai campionati oggi fermi, quelli che vanno dall'eccellenza in giù. C'è una notizia che arriva in un comunicato della LND Puglia, il comitato regionale, che dice di ritenere necessario concedere a tutte le società sportive, dilettantistiche e giovanili affiliate un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell'attività, affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati. Ovviamente si precisa sempre nel rispetto dei protocolli sanitari. Per questo, spiega il comitato regionale pugliese LND, il consiglio direttivo elaborerà un piano di ripartenza che sarà deliberato nella riunione del 12 novembre 2020. Cosa accade? Questo piano di ripartenza sarà poi inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio dell'autorizzazione. Una volta arrivata questa autorizzazione, il comitato regionale Puglia pubblicherà la nuova programmazione delle gare dilettantistiche e giovanili proprio su questo comunicato ufficiale.